questo video è realizzato in collaborazione con il sito di oroscopo multimediale che offre previsioni accurate e personalizzate scoprite il vostro oroscopo del giorno e molto altro ancora visitando il link in descrizione la promessa anticipazioni di giovedì 29 e venerdì 30 agosto 2024 in un angolo del patio ana si avvicina ad abel e gli ricorda che non sono fidanzati quindi non dovrebbe trattarla come tale abel allora confessa di sapere che lei è innamorata di manuel avendo la vista baciarlo nell'angar ana rimane sconvolta mentre abel le dice che se non fosse per manuel lei sarebbe stata innamorata di lui abel poi le fa notare che prima o poi imena tornerà e ana rimarrà solo l'amante di manuel destinata a un cuore spezzato ana con le lacrime agli occhi ascolta mentre abel le assicura che sarà sempre lì per lei petra ancora con la marchesa cerca di rassicurarla negando di nascondere qualcosa e riuscendo abilmente a cambiare argomento cruz si lamenta allora del desiderio di catalina di viaggiare da sola con pelaio sebbene sia contenta che alonso si sia opposto e si mostra preoccupata per il fatto che alonso abbia proposto a manuel di conferire il titolo di barone a curro non sapendo come gestire il legame sempre più stretto tra alonso e curro in cucina simona e candela discutono della crescita del figlio di pia quando arriva ana che chiede notizie di maria preoccupata perché non la vede da un po pia la rassicura dicendo che maria doveva fare delle commissioni in paese e che probabilmente non ha ancora finito catalina e passeggiano in giardino con una cartina geografica della spagna in mano e decidono di visitare le isole canarie catalina determinata afferma che nonostante il padre le abbia negato il permesso insisterà fino a fargli cambiare idea nel frattempo geronimo nascosto poco lontano ascolta la loro conversazione in sala cruz affronta alonso accusandolo di aver spinto manuel a conferire il titolo di barone a curro alonso ribatte che comunque la decisione finale spetta a manuel che ha già deciso manuel interviene spiegando che senza quel titolo curro rimarrebbe vulnerabile in futuro e che il titolo del nonno il barone di linaa in realtà non ha una lunga tradizione familiare essendo stato acquistato cruz furiosa e contrariata lascia la stanza rimasti soli alonso chiede a manuel se ha notizie di imena ma manuel risponde che non riesce a contattarla poiché le negano il telefono e ancora non sa quali provvedimenti prendere per risolvere la situazione catalina dopo aver deciso la destinazione del viaggio con pelaio si ripromette di tentare nuovamente di convincere suo padre a lasciarla partire mentre si allontana geronimo si avvicina a pelaio e lo rimprovera per aver accettato di partire con catalina vista la situazione del traffico di armi pelaio però rassicura geronimo che non partirà e troverà una scusa per giustificarsi spiegando che non poteva rifiutare subito in sala cucito felissiano confida a teresa che quando ha visto il piccolo di pia tra le sue braccia si è commosso e ha immaginato il loro futuro insieme sperando di essere un buon padre teresa con dolcezza gli dice che sarà sicuramente un bravo padre e confessa di desiderare almeno cinque figli sorprendendo felissiano che felice la bacia nel salone catalina si trova con suo padre alonso e manuel e insiste ancora una volta per poter partire con pelaio alonso sembra irremovibile ma manuel propone un compromesso permettere a catalina di partire a patto che siano accompagnati dopo una iniziale riluttanza catalina accetta la condizione e propone sua zia margarita come accompagnatrice alonso alla fine acconsente e catalina è felice tuttavia in quel momento cruz entra furiosa e accusa manuel di non aver rispettato né imena né il loro matrimonio paragonandolo al defunto tomas che a sua volta non rispettò imena definendoli due mascalzoni alonso interviene zittendo cruz seguito da catalina che difende manuel spiegando che né tomas né manuel volevano sposarsi e che manuel fu ingannato quando perse la memoria allora cruz furiosa lascia la stanza più tardi martina e curro fanno una passeggiata a cavallo e si fermano vicino a un albero con un'altalena martina commenta che manuel ha dimostrato il suo affetto concedendo a curro il titolo nobiliare di barone curro conferma ma aggiunge che non ambisce ai privilegi e si accontenterebbe di gestire una fattoria tutta sua pelaio confessa a catalina di aver cambiato idea e di ritenere che non sia il momento giusto per il viaggio è preoccupato per la sua salute dato il recente pericolo e non vuole che l'onore di catalina venga messo in discussione catalina risponde di aver già raggiunto un accordo con suo padre includendo margherita nel viaggio ma pelaio insiste per rimandarlo catalina seppur delusa accetta intanto nella sala da pranzo tutta la servitù si riunisce anche se maria non si vede ancora mauro annuncia ai colleghi che all'alba lascerà la promessa per andare a lavorare come maggiordomo in un'altra casa i compagni sono visibilmente dispiaciuti molti di loro non trattengono le lacrime soprattutto teresa ed uno all'uno salutano mauro con affetto abbracciandolo catalina informa sua zia margarita che il viaggio è stato rimandato perché pelaio ritiene che non sia il momento giusto per la sua salute margarita sorpresa dal repentino cambio di idea di pelaio sospetta che ci sia qualcosa di strano e che essendo molto intelligente pelaio riesca sempre a convincere catalina a fare ciò che vuole lui la sera durante la cena cruz sorprende tutti chiedendo scusa a manuele alonso per essersi opposta al titolo nobiliare di curro riflettendo si è resa conto che il gesto di manuel è stato onorevole e propone un brindisi per curro lasciando tutti sbalorditi soprattutto lorenzo mentre curro ringrazia gli zii emmanuel a notte fonda maria non è ancora tornata alla promessa e preoccupata ana si reca da salvador dicendogli che andrà a cercare maria salvador anche egli preoccupato si veste in fretta per accompagnarla pelaio dopo una conversazione telefonica con cavendish riferisce a geronimo che la guerra sembra essere imminente gli inglesi necessitano urgentemente di un numero di armi tre volte superiore a quello richiesto in precedenza e cavendish promette una ricompensa generosa sebbene entrambi riconoscano il rischio nel trasportare una tale quantità di armi in così poco tempo concordano che valga la pena tentare la mattina presto mauro è pronto a lasciare la promessa mentre tutti sono ancora nelle loro stanze mentre attraversa i corridoi ricorda i momenti passati con teresa leonor lope e i suoi amici più cari prima di uscire viene raggiunto da teresa che lo rassicura di non serbare più rancore per il tradimento con leonor gli confida che lui è ancora importante per lei che le mancherà e che lo ricorderà per sempre augurandogli felicità anche mauro desidera la felicità di teresa e i due si abbracciano intensamente con le lacrime agli occhi in sala alonso esprime a cruz la sua soddisfazione per le scuse espresse a tavola il giorno precedente crede che condividere il titolo nobiliare concurro avvicinerà manuel a quest'ultimo permettendogli di colmare il vuoto lasciato dalla morte di tomas cruz è sorpresa dalle parole di alonso ma in quel momento arriva romulo con un telegramma di leonor per cruz in cui la informa del suo imminente ritorno a casa e i marchesi sono felici della notizia lorenzo si avvicina a martina per chiedere spiegazioni sul comportamento di curro nei suoi confronti ma martina afferma di non sapere nulla e lo invita a parlarne direttamente con curro ma lorenzo insiste e si arrabbia e martina si alza e se ne va la marchesa convoca pia per informarla che leonor sta tornando alla promessa e le chiede di prepararle una stanza dato che la sua è stata bruciata da imena pia promette di fare il possibile per accontentare leonor la marchesa poi le chiede bruscamente se feliciano sia il figlio di petra ma pia risponde di non saperne nulla e di aver sempre creduto che fosse solo il fratello di petra tuttavia cruz non sembra credere a questa versione in cucina mentre l'opera conta di cosa preparavano per colazione al ristorante di madrid ana e salvadore entrano sconvolti per annunciare che maria è scomparsa ana ha trovato uno scialle di maria macchiato di sangue tra i cespugli preoccupando tutti allora simona propone di avvisare subito romolo pia ancora con la marchesa continua a negare di sapere qualcosa su petra e feliciano ma cruz rimane scettica più tardi nei corridoi del servizio pia incontra petra e le riferisce della domanda della marchesa petra reagisce con insulti senza sapere come pia abbia risposto pia la zittisce dicendole di aver mentito per proteggerla e che dovrebbe essere petra stessa a parlare con la marchesa catalina e pelaio fanno un picnic insieme e catalina gli chiede se desiderava fare quel viaggio con lei pelaio conferma ma spiega che devono rimandarlo non solo per i motivi già discussi ma anche perché devono seguire l'andamento del loro business delle marmellate che appena iniziato se dovessero esserci problemi e loro fossero assenti potrebbero verificarsi guai seri quindi è meglio viaggiare quando l'attività sarà più stabile e catalina sembra essere d'accordo abel cura la mano infortunata di feliciano il quale però non ricorda come si sia fatto male mentre cruz si prepara nella sua stanza petra le riferisce che maria è scomparsa che ana e salvador sono usciti a cercarla e hanno trovato il suo scialle macchiato di sangue tuttavia la marchesa con la sua consueta freddezza non sembra affatto preoccupata per maria ma piuttosto irritata all'idea che il sergente funes potrebbe dover tornare a indagare alla promessa nel frattempo romulo convoca lope felissiano e salvador per discutere la riassegnazione dei compiti dato che mauro se n'è andato felissiano verrà incaricato di occuparsi di curro e lorenzo mentre salvador prenderà in carico manuel inoltre salvador verrà messo alla prova per ricoprire il ruolo di primo cameriere un compito precedentemente svolto da mauro tuttavia salvador non è entusiasta della notizia spiegando di essere troppo preoccupato per la scomparsa di maria per riuscire a concentrarsi ma romulo lo rassicura dicendogli che maria tornerà presto nel suo studio manuel informa curro che l'abbocato sta già lavorando sulle pratiche per far ottenere a curro il titolo nobiliare di barone curro chiede a manuel se ne sia certo e manuel gli assicura che è convinto che quel titolo spetti proprio a lui tuttavia curro si domanda come mai sua zia cruza abbia improvvisamente cambiato idea su questa questione in quel momento una cameriera passa accanto a loro e manuel la scambia per ana dice a curro di non averla vista per tutto il giorno e lo informa che forse ana è preoccupata per maria che non è ancora tornata dopo essere uscita per delle commissioni in paese e questo lascia curro visibilmente inquieto terminano così queste anticipazioni io sono desi e se volete vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video un abbraccio e ci sentiamo nei commenti con i vostri pareri sulla puntata